Grazie a tutti. 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 Buonissimo, bravo, belli, dai, dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, perfetto, dai, 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 che ci siamo, dai, ci siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giudici, bravo, dai, 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 dai. Leiamoci, leviamoci, 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 su. oh sono solo quattro minuti la po dai dai che ce l'hai all'italiana ea tre minuti parevi morto dai siamo a 6 minuti vai su vai la po tieni il ritmo mantieni il ritmo non mollare resta lì resta lì con la testa dai manca tre minuti e mezzo dai si non mollare la po su tre minuti dai 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 si 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 concentrati ogni ripetizione dai dai la ripetizione alla volta la po vai si si ci siamo quasi non mollare non mollare spingi vai sotto veloce si bravo dai 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 ci siamo la po non molla ora è il tuo momento la po vai che c'è due e mezzo eh tieni il ritmo tieni il ritmo cazzo sono due minuti e mezzo la po ce l'abbiamo vai si bravo resisti resisti altri due minuti e mezzo la po bravo dai bravo dai 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 non mollare mancano due minuti dai tieni il ritmo bravo si bravo la po dai mancano due minuti soli dai ci siamo bravo dai la po ci siamo è finita è finita tieni tieni bravo non mollare non mollare si un minuto e mezzo la po dai tieni duro tieni duro una ripetizione alla volta concentrati respira vai sotto veloce si dai 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 ce l'abbiamo mantieni il ritmo mantieni il ritmo è finita la po ci siamo quasi dai si bravo bravo una ripetizione alla volta respira respira manca l'ultimo minuto la po su e bravo vai la po è l'ultimo è l'ultimo la po l'ultimo minuto c'hai l'ultimo minuto la po tranquillo respingi devi fa sei la po vai su uno bravo dai dai non mollare la po non mollare 45 secondi non sono un cazzo dai spingi su ce l'hai la po vai si vai 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 il tuo momento la po vai che ci siamo dai 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 non mollare 30 secondi dai ottimo dai 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 30 secondi la po si vai signor Anderson vai vai grande si bravo vai vai si calmo prenditela con calma respira vai che è questa si vai vai la po ormai finito dai che ci sei si si bravo buttacene un'altra respira fissala e bravo e Sì!